Ok, che cazzo è? Oh, ma che cazzo è? Oh, che cos'è? Bella a tutti ragazzi, sono Drink e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qua, tornati ragazzi, su Black Ops 3. Dopo 28.000 anni e 28.000 giorni e 28.000 ore, siamo qui, tornati con Black Ops 3. Ok ragazzi, oggi ci faremo una partita... Ci facciamo una partita a bonus match with chaos. Ragazzi, scusatemi se non sono tanto attivo per i video e tutto quanto, perché ragazzi, come sono le feste di mezzo, sono stato pure male, quindi proprio male le vacanze, che sfiga cazzo. E ragazzi, non so se riuscirò a fare le sponsorizzazioni per Capitano, non lamento tutte queste persone, adesso vedrò cosa posso fare. Se posso... se non 10, forse metterò 5 persone, forse lo farò il primo gennaio, adesso vediamo ragazzi. Però non vi preoccupate che il video delle sponsorizzazioni uscirà. Oh, cazzo! Ok. Ci siamo. Uplink. Ragazzi, vi dico che questa è la... Ok. Vi dico che questa è la prima... La... No, seconda partita che fa dove? Ok, che cazzo è? Oh, ma che cazzo è? Oh! Che cos'è? Tieni! Ok, l'ho ucciso. Ok, trick 2-0. It's good. Oddio, quanti ne erano! Quanti cazzo ne erano? Ragazzi, ma che... Ma cos'è questa modalità? Palla a mano? No, perché non... Veramente, spiegatemi la modalità, perché non ci ho mai giocato finora. Dio santo! Proviamo quest'altra arma che... È tanto tempo che non la uso più. Non so se nemmeno mi ci troverò. Adesso vedremo. Ok. Dove? Come cazzo ha fatto a uccidermi? Guarda, raga, come ci accoglie quello! Che 5-5... Ok, ok. Intanto ne ho ucciso uno. Ok, raga, buono, 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 buono. Dio che cucina patatina il McDonald! Cazzo! Ma che cazzo è? Raga! Prima di tutto camperano come i matti. Perché, vabbè, l'avete visto voi quando cazzo camperano queste persone. Quindi, ragazzi, non c'è una cazzo... Non c'è... Non c'è modo di giocare. Non c'è modo. Tu muori, figlio di merda. Ok, speriamo... Wow, 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 wow! Bella questa! Grazie, amico mio! Ok, 10 secondi immanenti. Buono, buono. Ok, mi piace. Stanno camperando veramente malissimo. Ok, guardalo! Guardalo te, sto lì! Guardala! Vai, ragazzi! L'arma è nera. Ma che cazzo è successo? Oh, che è sto bug? Ok, adesso prenderò il cecchino. Oh, ma dove cazzo è? Ok, prenderò il cecchino sperando di fare qualche uccisione. Qualche quick, magnifico. Ok. Ok. Doppio uccisione. Ok. Ok, raga. Ho paura, un attimino. Ho paura, 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 paura. Paura. Ok, vai, vai che scoppia lui. Vai che scoppia! Oh, cazzo! Dai, per Dio! 9.13, raga. Non va bene, non va bene così. Ok, uno ucciso. Ok, vai mo! Ma che so tutti questi robot? 2.13, raga. Ok, raga. Cosa sono tutti questi robot? Ok, non spawnano più? Ok, 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 ok. Mi sono salvato a culo. Ok, no? Ok, a culo, raga, a culo. No, raga! Vai, super recupero, super recupero. Guarda! Ma, ma che cazzo? Ah, raga, raga, raga. Non va bene. L'importante è che non andiamo in negativo. L'importante è quello. Prenditi qua. Ma con lei... Oh, ma io l'avevo colpita, però! Com'è sta cosa, raga? L'avevo... Cazzo colpita! No, 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 no. Dai, su. Maledetto. Dai, su, dai, dai, dai. Dai, l'avevo colpita! Ma cos'è sta porcata? Black Ops, cosa cazzo mi stai facendo? Ok, l'ho colpito, l'ho colpito. Dai, tutti a me! Uccidono tutti a me! Come cazzo è possibile? Oh, ok, raga. La sofferenza è finita. Abbiamo finito, raga. Purtroppo è stata una sofferenza con tutta sta gente che cambierà. Vabbè, comunque lo capisco, raga. Comunque è una postazione... No, è una... Upli, come cazzo si chiama? Upli, che modalità di palla a mano? Vabbè, ragazzi, niente. Se vi è piaciuto... Ok, abbiamo fatto schifo, raga. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione del su, condividere il video con i vostri amici e qui, da oggi è tutto. Ci rivediamo in un prossimo video. Venga a tutti, ragazzi!